Salve carissimi amici, tuttubi qui Francesco e bentornati nella soffita di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla. In questo video parliamo del sesto numero della Disney Humor Collection con le più belle storie di Silvia Zdike. Il volume si intitola Topolinia e dintorni e come starete vedendo adesso qui alla mia sinistra questa copertina si rifà ad una vecchia copertina di Topolino. La copertina semplicemente è stata invertita, è stata ribaltata, sono stati aggiunti due uccelli e ci hanno messo il fumo ed è stata ricolorata. Perché non far rifare la copertina di Silvia Zdike? Comunque, comunque, dopo la sigla parliamo un po' di questo sesto volume che dovrebbe essere l'ultimo dedicato a Silvia Zdike. Sigla. Al di là del fatto che mi dà un fastidio incredibile il fatto che tutti i volumi di questa collana finora avessero uno sfondo bianco neutro e qui l'hanno fatto azzurro, quindi l'ultimo numero è anche stilisticamente diverso rispetto agli altri. Perché? Perché? Vabbè, al netto di questo, partiamo subito. Editoriale iniziale ad opera di Davide Del Gusto che già ci fa capire che questo è l'ultimo numero di cazzo a Silvia Zdike. Perché? Perché chiudiamo un cerchio, abbiamo parlato un po' di tutto l'operato delle storie un pochettino più lunghe, delle storie nella quale Silvia Zdike è stata autrice completa, non so se effettivamente ce ne siano molte altre oltre a queste, e arriviamo più o meno ai giorni nostri con storie ambientate a Topolinia, uscite tra il 2010 e il 2014. La prima storia che ci viene proposta è Topolino e la Crociera Nera. Una storia nella quale ci troviamo inizialmente in microscopistano, un paese piccolissimo, dove però c'era un'altissima criminalità e per far fronte a questa massiccia criminalità, e non sapendo dove mettere i criminali, stanno in albergo. Ma lo Stato non riesce a sobbarcarsi questa spesa, quindi decidono di creare una maxi nave da crociera, dove potranno stare tranquillamente tutti quanti i criminali. Topolino nel frattempo invece è molto stanco da tutte le attività che sta facendo per Basettoni, decide di andare in viaggio, in nave, a pescare per la precisione, con Pippo, solo che durante il viaggio succede un fattaccio. C'è un naufragio e i nostri incappano proprio nella nave piena di criminali, dal quale dovranno cercare in tutti i modi di fuggire. È una storia piuttosto divertente, con un bel ritmo, con un Pippo completamente fuori dal mondo. Si vede che Silvia Zika piace questo personaggio, piace il personaggio di Pippo, e piace mostrarlo nelle posizioni più assurde, nelle maniere più assurde, con delle idee completamente avulse dalla realtà. Molto forte è anche qui il personaggio di Minnie, che ha una particina in realtà, non particolarmente lunga e completamente dedicata, piuttosto intrigante, così come anche il personaggio di Gamba di Legno, che a un certo punto dovrà aiutare a risolvere la situazione. Una storia particolare, non particolarmente lunga, per quanto sia una storia in tre parti, ma sono tre parti da circa 20 pagine l'una, quindi molto molto agili, ma che ci portano davanti ad una storia piuttosto comica e divertente. La seconda storia proposta all'interno del volume è ETA-BETA e il ricatto pesante. Questa è una storia che ricordavo con estremo piacere, e mi fa piacere quindi averla anche in questo grande formato. Cosa succede? Topolinia è minacciata da un criminale, che ha tutta una visione completamente sua, perché crede di essere un grande poeta, di aver scritto grandissime opere, ma è stato rifiutato da tutto e da tutti, e quindi sta mettendo in scacco la città. Spetterà a Topolino, e grazie all'aiuto di ETA-BETA, che ha tutto nel suo gonnellino e quindi può aiutare la città, cercare di prevenire, fermare questo criminale. A me le storie, anche i film in realtà, dove c'è qualcuno che mette in scacco la città, sto pensando a molti in realtà episodi di Detective Conan, che hanno questo filone, piacciono, quindi qui poi siamo in una veste estremamente comica, surreale, e a un certo punto in realtà ETA-BETA verrà male alla schiena, e quindi non potrà più aiutare effettivamente come potrebbe fare normalmente. La storia finisce in una maniera anche piuttosto comica, quindi riesce ad aggiostrarsi tra un thriller, piuttosto thriller, e tante scene comiche e divertenti. Ma parlando di storie comiche e divertenti, c'è Topolino e la saga burocratica. Storia che inizia con Topolino, fermo alle poste, che deve fare qualcosa, deve pagare le tasse a tutti i costi, abbiamo un gamba di legno che improvvisamente è diventato ricchissimo, e il basettone che chiede aiuto a Topolino, ma Topolino non può fare niente, perché è lì fermo, che deve pagare le tasse. Ma nel mentre che è lì fermo in attesa, sopraggiunge uno strano figuro che lo porta in un mondo fantasy alternativo, perché deve salvare la situazione, deve salvare il mondo in questo mondo fantasy. Un mondo fantasy che però prevede un sacco di scartoffie. Tutto quanto è fatto di scartoffie, ogni singola cosa è fatta di scartoffie, ogni cosa deve essere suggellata, firmata, controfirmata, e per fare qualunque tipo di attività ci sono moduli su moduli su moduli. Pensate, ci sono moduli per le streghe che possano fare incantesimi, ci sono moduli per i draghi affinché possano rapire le principesse, principesse che firmano moduli per essere rapite, principe che firmano moduli per poter trovare la principessa da salvare perché è stata rapita da un drago. Cose anche così assurde. Ovviamente tutta questa burocrazia c'è qualcuno che se ne sta un pochettino approfittando. Sì, avete indovinato anche perfettamente chi è. La storia risulta molto molto comica e molto molto satirica sull'uso estremo che si può fare della burocrazia e di dove può andare a degenerare quando questa diventa prioritaria alla sua vera utilità. E sotto questo punto di vista la storia a me è sempre piaciuta ed è sempre sembrata piuttosto divertente. A livello di storie chiude l'album Minnie e il guaio con i fiocchi. Una storia che in realtà vede Minnie e Carabella come assolute protagoniste in una storia dove i fiocchi, i cappelli, le cinture, le cravate prendono vita perché scopriremo abbastanza in fretta essere alieni che vogliono conquistare la terra. L'idea in realtà è anche abbastanza interessante, può portare a situazioni piuttosto divertenti ma questa storia non è mai riuscita a farmi davvero breccia. La situazione paradossale dove fiocchi alieni vogliono conquistare il mondo grazie al controllo che possono esercitare sulle persone per la loro influenza, grazie all'utilizzo di mezzi tecnologici ci sono delle idee che ci possono stare e che sono portate qui all'estremo però la storia non mi ha mai divertito particolarmente c'è alcune gag proprio perché si basa sul surreale che funzionano e sono divertenti ma in questo caso la storia forse è nell'insieme quella che mi è piaciuta di meno mi è sembrata forse la più debole dell'otto ma qui secondo me si va molto 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 a gusti. A seguito delle quattro storie è presente come al solito una lunga intervista all'autrice che ci parla un po' di tutti dietro le quinte, di alcuni dietro le quinte di alcune motivazioni, di alcune logiche che hanno spinto a realizzare le storie che abbiamo appena letto e poi siccome è stato creato un classico Disney un paio di annetti fa che conteneva tre delle quattro storie proposte all'interno di questo volume la scelta è stata quella di parlarci un po' di questo volume dei classici e per quanto più piccolino presentarci anche tutte le pagine frame che intercorrevano tra una storia e l'altra l'idea ci può stare carina, poi vi faccio vedere la prima pagina e tra l'altro è vero che sono più piccoline ma sono ancora abbastanza fruibili e leggibili quindi volendo uno potrebbe non acquistare quel classico e seguendo l'ordine che viene segnalato qua leggere le storie e poi le frame corrispondenti quindi ora sappiamo che la collana non si chiuderà perché nell'ultimissima pagina viene segnalata che a luglio ci sarà il settimo volume della collana però il fatto che sulle pagine di Topolino era segnato come ultimo numero tra l'altro dimmi che è l'ultimo numero con Silvia Zicche non dirmi che è l'ultimo numero perché se mi dici che è l'ultimo numero io penso che la collana abbia fallito e sia chiusa e invece a quanto pare no ma lo scopro per rimando aprendo e leggendo per l'appunto i contenuti del volume gli editoriali sia quello iniziale che comunque anche in mezzo alle interviste lasciano intendere comunque una sorta di simil percorso editoriale che è partito con le grandi saghe di Silvia Zicche determinato con una selezione delle storie più recenti per quanto più brevi ma comunque ugualmente potenzialmente interessanti che vedevano l'autrice come autrice per l'appunto completa sia disegnatrice che disegnatrice ora non credo che sia un omnia di tutte le storie di Silvia Zicche come autrice completa magari farò una breve ricerca su Index e cercherò di segnalarvi la cosa sia nello spazio dei commenti sia in descrizione a questo video non solo perché manca Topocolossal ma perché credo che in generale magari qualche altra storia come autrice completa sia uscita anche se in questo momento mi sfugge nella fattispecie però si è voluto comunque creare una sorta di The Best Of Silvia Zicche che secondo me funzionicchia funzionicchia nel senso che i primi quattro volumi mi sento comunque di consigliarli un pochettino a prescindere mentre gli ultimi due secondo me mostravano già un pochettino di più il fianco a questo tipo di iniziativa perché molto situazionali sulle singole storie che per carità sono un pochettino più brevi e forse sotto questo punto di vista risultano un po' meno memorabili rispetto ai grandi classiconi e grandi colossal ho continuato a citare Colossal a parlare di Colossal e non mi nascondo dietro un dito manca sicuramente il Topocolossal forse la mia storia puntata della zica preferita in assoluta vuoi perché mi piacciono più i topi che i paperi vuoi perché comunque la situazione di rimando la storia di rimando ovvero sia Star Wars è tra le mie saghe preferite il problema di fondo continuo a ribadirlo ancora una volta e credo che sia legato al fatto che come brand Star Wars ha avuto una grossa crisi soprattutto a seguito della nuova trilogia che non è piaciuta a tanti fan e il fatto che sia stata sbeffeggiata un po' destra la manca ha fatto sì che perlomeno internamente si voglia un po' calmare le acque quindi pubblicare un qualcosa che parodizza Star Wars per quanto ne parodizza per i suoi aspetti positivi cioè lo fa bene non è una parodia stupida è una parodia che prende in giro e basta è una parodia che prende in giro alcuni aspetti ma lo fa esaltando un po' quelli che erano gli aspetti forti anche della saga quindi boh secondo me qui è stata completamente una cosa che Disney America ha completamente cannato perché tanto il fatto che era stato pubblicizzato come primo numero voleva dire che ci stavano già a volante erano già avanti con i lavori non è che hanno scelto così all'ultimo di fare un cambio, uno switch purtroppo quindi credo che sia successa questa cosa qui e gli ultimi volumi secondo me di questa collana hanno mostrato secondo me un pochettino al fianco il volume su Zipaperone ancora ancora e mi era piaciucchiato per carità così come mi è piaciucchiato questo però mi risulta molto meno interessante rispetto ai primi quattro volumi della collana quindi al netto di tutto questo probabilmente la testata per quanto riguarda Silvia Ziche aveva ancora poco da dire al netto per l'appunto di Topo Colossal che purtroppo ad oggi sembra non poter avere una ripubblicazione anche se mi auguro che quando si potrà potrà essere inserita in una prosecuzione di questa collana prosecuzione che mi sembra abbastanza certa visto che per l'appunto è segnalato che proseguirà con un settimo numero sarà interessante vedere uno se cambierà il colore di sfondo lasciando che quindi il giallo sia un colore identificativo per qualche motivo per la parte della collana dedicata a Silvia Ziche due mi aspetto che il numero sulla costina ritorni ad essere ad uno cambiamo autore ha senso perlomeno cambiare anche numero rinumerare la testata capisco dare una continuità che comunque sarebbe presente tramite per l'appunto le scritte qua dietro però per l'appunto cominciare con un nuovo autore dal numero 7 non è proprio il massimo da avere come collezione per quanto fosse stato per me io avrei proprio omesso il numero dalla costina così da proprio cancellare ogni dubbio però se ci deve essere se cambiamo autore cambiamo anche numero spero che vogliono fare come per la Ziche più numeri consecutivi sullo stesso autore e sono curioso di vedere chi sarà coinvolto per l'appunto tra i vari autori sicuramente tra i primi che mi vengono in mente tra i più comici c'è indubbiamente Fausto Vitaliano ho già avuto modo di dire nel video infinitamente lungo sulle storie che mi piacciono della Disney tra le cose che volevo vedere ristampate è una storia in particolare di Fausto Vitaliano quindi mi piacerebbe rivedere la prima possibile o potrebbe esserci tranquillamente Faraci con tutta la sua sottoserie di storie comiche divertenti anche se effettivamente forse andrebbe un po' a collidere con un eventuale inserimento in una ipotetica thriller collection post-Casti che secondo me durerà ancora parecchio parecchio la serie su Casti perché Casti ha ancora veramente tantissime frecce da scoccare dal suo arco oppure potrebbe esserci forse banale da dire faccini che ha uno stile indubbiamente estremamente comico e che si presterebbe ad una raccolta di sue storie per quanto organizzarle in maniera tematica potrebbe non essere la soluzione ideale il punto di forza di questi volumi a mio parere è quello di avere storie belle forti e faccini in questo momento pensare ad una raccolta di storie lunghe scritte e disegnate da lui faccio un po' fatica penso più a tante storie più o meno lunghe dalle trentina quarantina di pagine al massimo e forse questo formato qui non riesce a valorizzarle appieno non ce lo riesco a vedere questa valorizzazione o un ciclo di storie che avrebbe senso però faccini e cicli di storie faccio fatica si ha scritto e disegnato tantissime storie con paperoga ma identificarlo come ciclo faccio fatica quindi boh vedremo un attimino chi salterà fuori tra i nomi potrebbe anche non essere nessuna tra i tre che ho proposto quindi l'italiano faracci e faccini potrebbe essere qualche d'un altro vedremo che cosa salterà fuori e come la humor collection proseguirà anche perché banalmente potrebbe non voler proseguire per autore e magari si fare volumi tematici per autori però fare un volume su un autore e poi spostarsi su un altro per poi proporli magari alternati non avrebbe troppo senso in una collana che esce ogni quattro mesi però potrebbe essere anche quella la direzione che vuole prendere questa collana lo scopriremo per l'appunto andando avanti diciamo che non mettere nessuna indicazione mai in fondo al volume non ha secondo me troppo senso avrebbe secondo me senso dare un'idea di che cosa potrebbe uscire ma qui chi sono io per poter fare questa sorta di suggerimento certo mi scoccia che come ho già detto in passato questo copertina qui non c'entra niente a livello estetico con le altre della collana mi fa piacere che perlomeno tutte le costine siano tutte belle gialle quindi identifichino piuttosto bene un ciclo narrativo in una qualche maniera però ecco diciamo così la humor collection dedicata a Silvia Zicche è chiusa vedremo su cosa proseguirà la humor collection e questo è quanto avevo da dire per voi per oggi da Francesco dalla soffita di camera mia è davvero tutto e noi ci vediamo in una prossima video opinione del canale ciao